Buongiorno a tutti ragazzi, allora adesso non voglio parlare di calcio, di Juventus o quant'altro. Allora sapete che io sono carrieto, ok, sapete molti di voi sanno anche dove abito quindi, però voglio insomma, siccome molti mi hanno chiesto e vi ringrazio cos'è successo, come stai, questo e l'altro. Allora per quanto riguarda la mia città, c'era il piave che praticamente era quasi uscito dagli argini di fatto, e se continuava il vento di scirocco probabilmente sarebbe anche uscito. Qua abbiamo gli argini molto alti, da altre parti non è così, infatti lì sono stati un po' inondati. Vabbè, però la cosa più grave è accaduta in montagna, sulle montagne venete. Lì, tra pioggia, tra praticamente valanghe di fango, tra soprattutto il vento che soffiava a 200 km orari, ci sono molte abitazioni distrutte, molti che sono ancora senza luce, molti che sono ancora senza acqua potabile, e c'è soprattutto un paesaggio devastato, ci sono migliaia e migliaia di alberi sradicati dal vento, e stanno vivendo veramente delle situazioni abbastanza difficili. Ora per riprendersi, il popolo veneto non è un popolo che chiede mai nulla, cioè ha vissuto parecchie tragedie qui nella propria regione, però si è sempre rialzato senza chiedere una mano a nessuno. Stavolta è probabilmente diverso perché ci sono, c'è veramente bisogno di una grandissima mano nazionale, poi ne approfitto per comunque spendere qualche parola anche per quello che è successo in Sicilia, che là, se non sbaglio, ci sono stati anche dei morti, anche una decina se non sbaglio, e soprattutto a tutte le località che stanno vivendo delle situazioni, dei momenti veramente tragici, perché comunque molte volte si dà tutto per scontato, abbiamo questo, abbiamo l'altro, abbiamo quell'altro, basta una pioggia di parecchi giorni e un fiume in parte magari per cambiarti completamente la vita poi, quindi veramente va un pensiero a tutti quelli che stanno vivendo queste situazioni di tutte le regioni. Per quanto riguarda il Veneto, io voglio contribuire, dico già che questo video ovviamente non verrà monetizzato, perché poi, però comunque voglio contribuire a pubblicizzare l'Iban della regione Veneto, nel quale potete versare un piccolo contributo, non grandi cifre, però se siamo in tanti a versare piccoli contributi, a versare piccole cifre, alla fine si fa qualcosa di grande tutti insieme, però vi lascerò l'Iban della regione Veneto, con tutte le credenziali da scrivere, comunque le vedete in foto, però soprattutto, come diceva Canali Canale, chi è Veneto lo segue, come diceva anche Luca Zaia, presidente della regione, non è solo una questione economica, è una questione che soprattutto in Veneto e soprattutto sulle montagne Venete, vivono anche qua nel litorale, però non essendo estate, non essendo successo qui, quello che è successo lì, soprattutto appunto sulle montagne Venete, si vive molto di turismo, e la cosa da non fare assolutamente è lasciargli soli, ok, semplicemente perché è successo quello che è successo, quindi a parte i soldi, bisogna comunque continuare ad andare lì, ovviamente una volta che si sono sistemati, che si sono un po' rialzati, ma bisogna continuare ad andare lì, nelle malghe, a farsi qualche giorno in montagna, a contribuire comunque, e a tenere vivo quell'ambiente, vivi quei luoghi soprattutto, perché adesso comunque stanno, veramente io adesso non ho la percezione da qua, però leggo, sento, e vedo delle immagini veramente abbastanza, insomma, anche perché io, che poi so che anche tipo il Trentino e il Frioli hanno avuto dei problemi simili, non con questa gravità, però hanno avuto problemi pure loro, e sono di fatto regioni che io ho frequentato in un modo o nell'altro, sono andato in vacanza da una parte, in vacanza dall'altra, e quindi sulle nostre montagne, di fatto, Friulane, Venete, cioè qua del Triveneto, di fatto, ho passato parecchi giorni di vacanza, quindi sono legato a tutte queste località, e quindi, anche perché, veramente sono località fantastiche, fanno da mangiare veramente ottimo, io non ho mai mangiato così tanto come quando sono andato a mangiare, o comunque a fare dei giorni di vacanza in montagna, lì si mangia veramente genuino, benissimo, e soprattutto si respira aria pulita, ecco, a differenza magari qua della pianura padana, che è inquinata fuori maniera. Vabbè, comunque spero di essere stato anche pochissimo d'aiuto, vi chiedo questo contributo per la regione Veneto, e per quelle località soprattutto colpite. Adesso chiamano pioggia anche oggi, domani dopo domani, speriamo non accada nulla nel frattempo. E niente ragazzi, io vi auguro buona giornata a tutti, ci vediamo al prossimo video, magari nel quale parleremo di calcio, però questa piccola parentesi la dovevo fare, perché sono Veneto, ho aspettato una settimana, prima di, insomma, volevo vedere la situazione come si evolveva, e niente, tutto qua. Buona giornata a tutti, e mi raccomando, se avete le possibilità, non è che se non le avete, dovete per forza donare qualcosa, però se avete le possibilità, non so, 10 euro a testa, ecco, se siamo in 6.000, quasi 7.000 nel mio canale, 10 euro a testa, penso che, insomma, possono fare anche, non dico la differenza, però, possono contribuire veramente in maniera massiccia. Buona giornata a tutti. e ovviamente ai miei co-regionali, ai miei montanari, più che, e ovviamente i miei co-regionali e i montanari del Veneto, ovviamente, esprimo solo la mia grandissima vicinanza, siamo tutti con voi, e sappiamo benissimo, perché i montanari sono veramente gente tosta, e si risolleverà per forza, di sicuro, quindi, però, esprimo veramente la mia vicinanza a voi, e vi auguro veramente il meglio, e spero veramente che riusciate a tornare come prima, e magari anche più forti di prima. Grazie a tutti.